Un saluto a Elettro di Cefonolius, oggi siamo in Via Roma 46 da EgoSmock, un nuovo negozio di sigarette elettroniche. Ci facciamo spiegare ad Alessandro qual è la novità di queste nuove sigarette? La novità di queste sigarette è la possibilità di dare al consumatore un prodotto per poter fumare diverso e non danneggiare la salute. EgoSmock è un vostro franchising, da cosa nasce l'idea proprio di aprire un franchising del genere sulle sigarette elettroniche? L'idea nasce dal fatto che si possa dare la possibilità al fumatore di poter riuscire a smettere di fumare, con semplicità e in modo diverso. La sigaretta elettronica a Cefalù è una novità, perché avete scelto proprio questo posto per aprire il vostro negozio? Allora abbiamo scelto questo posto perché veniamo da Roma, dove questa realtà è molto presente. Crediamo in questo progetto proprio perché amici e parenti sono riusciti a smettere di fumare con molta semplicità. Bene, spieghiamo a questo punto ai lettori come è fatta una sigaretta elettronica. Allora è semplicissimo, la sigaretta è composta da tre elementi, la batteria, il cartomizzatore, dove viene inserito il liquido di varie tipologie con vari tassi di nicotina e la parte superiore. Bene, hai parlato del liquido spiegandoci della sigaretta, cosa c'è all'interno del liquido, cosa fuma la gente? Allora è semplicissimo, innanzitutto i nostri liquidi sono prodotti da case farmaceutiche, quindi tutti sicuri. Sono composti per il 65% da glicerina, che è una sostanza che si trova all'interno di sciroppi, di prodotti alimentari, è una sostanza per lo più alimentare. Per poi, diciamo, acqua purificata con una bassa percentuale, un aroma tabaccoso per poter dare la possibilità al consumatore di avere la sensazione della sigaretta e i vari tassi di nicotina, tra cui, diciamo, noi partiamo dallo 0, lo 0,4, 0,9 e 18. Quali sono le marche dei liquidi? Le marche dei liquidi, noi momentaneamente lavoriamo con la liquidere fill, il vaporificio, che tratta, diciamo, tutti quanti i gusti aromatizzati, e la angel smoke. Passiamo anche alla critica su queste sigarette, si sente in giro che fanno addirittura più male delle sigarette normali. Cosa ci dici? Beh, diciamo, io dico sempre al consumatore, dico sempre che la cattiva pubblicità sulla sigaretta vera non viene mai fatta, perché allo Stato non conviene. proprio perché con questo, diciamo, arrivo della sigaretta elettronica lo Stato non ha più i guadagni di prima, perché molte persone riescono a smettere di fumare molto facilmente. Quindi possiamo dire che la sigaretta elettronica aiuta a smettere di fumare? Assolutamente sì, e io ne sono la prova vivente. E con questo possiamo anche salutare i nostri lettori, complimenti per la vostra nuova attività. Grazie, ti ringrazio per l'intervista.